E-mail dal futuro. Scelte e conseguenze inaspettate. Benvenuti nel mio canale dedicato all'intelligenza artificiale. Oggi vi racconto la storia di una ragazza che riceve un'e-mail misteriosa dal futuro. Un evento che cambierà tutto. Curiosa, apre l'e-mail e scopre consigli che sembrano poter migliorare la sua vita. Inizialmente è scettica, ma anche intrigata dalle possibilità che si aprono davanti a lei. Seguendo il primo consiglio, nota subito un cambiamento positivo nella sua routine quotidiana. La sua curiosità cresce, spingendola a scoprire di più sull'e-mail e sul mittente. Man mano che segue altri consigli, emergono conseguenze inattese. Inizia a chiedersi se sia giusto affidarsi a quei suggerimenti o se dovrebbe fidarsi del proprio istinto. Il mistero dell'e-mail diventa sempre più intrigante. Chi l'ha inviata? E perché proprio a lei? Con queste domande inizia un viaggio tra destino e libero arbitrio. Inizia a chiedersi se continuare a seguire i consigli dell'e-mail misteriosa o fidarsi del proprio istinto. La tentazione è forte, ma l'incertezza cresce ogni giorno di più. Nel frattempo i suoi amici notano i cambiamenti nella sua vita e iniziano a fare domande. Non sa se confessare la verità o mantenere il segreto. Un consiglio la trascina in una situazione complicata e rischiosa. Si trova di fronte a una scelta difficile, dove ogni decisione sembra portare a una nuova sfida. Ricorda un momento del passato che le offre una prospettiva diversa. Questo ricordo la guida a prendere una decisione più consapevole e autentica. Affronta le conseguenze delle sue azioni con coraggio. Ogni passo avanti rivela nuove lezioni e sente di crescere con ogni esperienza, nonostante le difficoltà incontrate. Riflettendo su quanto vissuto, si rende conto di aver imparato molto sui consigli ricevuti. Il viaggio le ha insegnato l'importanza di ascoltare se stessa, nonostante le tentazioni. Finalmente scopre chi ha inviato l'email. È una versione futura di lei stessa, desiderosa di guidarla. Questa rivelazione la lascia senza parole, ma anche motivata. Il colpo di scena è sorprendente. Il mittente è il suo migliore amico, che ha sempre saputo quanto fosse speciale. Questo rafforza il loro legame e la sua fiducia in lui. Realizza che la vera lezione è seguire il proprio cuore. Anche se i consigli possono aiutare, è la sua intuizione a guidarla verso il futuro che desidera. Condivide con il pubblico un messaggio ispiratore. Fidarsi di se stessi è fondamentale. Il futuro è incerto, ma con fiducia e coraggio possiamo affrontarlo al meglio. La storia C insegna l'importanza di trovare l'equilibrio tra destino e libero arbitrio. Tema centrale non solo nelle narrazioni. Ma anche nell'evoluzione dell'intelligenza artificiale che esploriamo insieme. Vi invitiamo a riflettere. Come bilancereste destino e scelte personali? L'intelligenza artificiale vi aiuta in queste decisioni. Condividete i vostri pensieri. La vostra esperienza è preziosa per tutti noi. Sentitevi liberi di condividere le vostre storie nei commenti. La vostra partecipazione arricchisce la nostra comunità, ispirando discussioni vivaci e nuove prospettive sull'intelligenza artificiale e il futuro. Grazie per essere parte di questo viaggio. Riassumendo, abbiamo esplorato il confine tra destino e libero arbitrio e come l'intelligenza artificiale influenzi le nostre decisioni e il nostro mondo. Per non perdere altre storie intriganti, iscrivetevi al canale. Continuate a esplorare con noi l'affascinante mondo dell'intelligenza artificiale e il suo impatto sulla nostra vita quotidiana.